Musica Gentile pubblico di Clippari, benvenuti al peggio di torta di risa La trasmissione peggiore, almeno a nostro avviso E' per dimostrarvi che non siamo ciò che venuti qua per deragliare i trenini Oh no no no, e che non siamo qui a pitturare scorreggie Anche oggi due imbecilli del giorno Più una serie di imbarazzati personaggi che saranno meglio commentati dal nostro Sbagliato curva E' Cille del giorno Senti ci sono i parenti che mi stressano e che vogliono informazioni Cosa gli dico? Eh cosa vuoi dirci? Tanto dici che è nimecille E' nimecille Sì? Se di un animo ci sono i parenti di quello che si è mischiato le ossa con la mountain bike E che vogliono sapere con me? Eh con me Il manubrio non si aggiusta più Il manubrio non si aggiusta più Lui si invece Anche se rimane Nimecille E' il momento che è L'imbecille del giorno Come un fulmine senza preavviso Ce ne andiamo con un bel sorriso Salutiamo dall'entra al confiso Era il peggio di torta di riso Saluti a tutti Alla prossima puntata Sì mio pubblico di Clipofagi Benvenuti al peggio di torta di riso Il meglio del peggio delle passate edizioni di TDR E per dimostrarvi che noi non siamo qui a palleggiare con i limoni No, no Siamo qua per governare le mucche Anche oggi per voi due imbecilli del giorno 2 E un'altra carriolata di personaggi imbarazzanti Per i quali è necessario addirittura un sommario Nel peggio La 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 Ma bravo La 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 Ma bravo La 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 Ma bravo Oh, becille Ma brave Vediamo questo E c'è un insegnante Alla lavagna E sta spiegando come si fa un cerchio Non so neanche sta spiegando il cerchio Una strana tecnica di farlo Ma guardate Però hai visto il giorno Che personaggio L'uomo molto compassato Ma bravo Ma bravo Hai capito adesso? Ma guarditi Ma sei un pagliaccio sei Movi Signora Stavamo guardando appunto le lastre di suo figlio con il collega Eh, la diagnosi guardi signora è una sola Suo figlio È un imbecille Sei caduto e ti sei rotto l'arto Indovina qual è il reparto Ma andavo al cento all'ora son finito Adopendia La 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 vita è dura Ma l'asfalto lo è anche di più Come un fulmine senza preavviso Ce ne andiamo con un bel sorriso Salutiamo dall'entra con viso Era il peggio di torta di riso Saluti a tutti Alla prossima puntata Ciao